Migliorare il servizio di igiene urbana della città, forte dell'esperienza amministrativa di questi anni, di mandato. Il Comune di Chieti ha illustrato le linee guida del nuovo bando di gara per la gestione della raccolta rifiuti della città e la pulizia. A mezzogiorno del prossimo 6 novembre scadrà il termine entro il quale le ditte interessate possono presentare l'offerta. Nel nuovo bando si prevede un rafforzamento del servizio di innaffiamento e lavaggio delle vie della città, la gestione del piano neve con l'aggiudicatario che dovrà provvedere alla pulizia in caso di precipitazioni nevose. Circa la raccolta differenziata la ditta vincitrice dovrà realizzare fino a quattro isole interrate in altrettanti punti individuati da Comune e Sovrintendenza dei Beni Archeologici, così da incentivare la differenziata nel centro storico e nella parte alta della città dove i numeri sono inferiori a quelli ottimi registrati allo scalo e nelle periferie. Un aspetto saliente sarà la costruzione di un impianto di riuso. Lì il rifiuto prende un'altra strada, non va più a smaltimento o verso i consorsi di filiera dove comunque finisce la sua vita da bene, ma viene reintegrato, reimmesso nel ciclo produttivo e qui tocchiamo anche il sociale. Andiamo a, diciamo, verso le esigenze delle famiglie meno abbienti, soprattutto in questo periodo sappiamo quanto è difficoltoso comunque andare avanti sotto il punto di vista economico e finanziario, quindi nascerà un vero e proprio baratto. All'interno del centro di riuso ci saranno beni ancora spendibili, beni ancora riutilizzabili che verranno fondamentalmente barattati con altri beni che entreranno all'interno del centro di riuso stesso. Saranno implementati anche i controlli verso chi infrange le regole e scarica i rifiuti abusivamente. La giudicataria dovrà sistemare una serie fittissima di telecamere in punti nevralgici della città, previsto anche l'uso di droni. Per controllare le parti anche meno raggiungibili dall'essere umano oppure dove non puoi installare una telecamera. Io penso che dopo questo fitto ecco così controllo a tappeto sicuramente scoveremo maggiormente trasgressori che spesso abbandonano rifiuti, sanzionati e quindi sarà una risorsa ulteriore per il nostro comune che verrà riversata comunque come risorsa economica ancora per cercare di sensibilizzare il cittadino a curare meglio l'ambiente che ci circonda.